Non solo aiuti e bonus da parte del Governo centrale, anche la Regione Molise si prepara a sostenere le famiglie sempre più in difficoltà. A causa del caro Bollette, grazie alla mozione della consigliera del Partito Democratico, Michela Fanelli, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, un provvedimento che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro assegnate ai comuni o agli ambiti territoriali sociali di zona per l'erogazione dei contributi diretti e nuclei familiari in crisi. Finalmente un atto dell'Aula che in sintonia con le esigenze delle persone ha commentato soddisfatta la Fanelli. Dunque un contributo economico alle famiglie che sarà erogato direttamente dai comuni e non solo. La mozione approvata dal Consiglio regionale prevede anche altre misure, l'alleggerimento dei costi dell'energia attraverso l'incentivazione dei piani di taglio boschivi in modo da assegnare gratuitamente la legna ai cittadini che ne facciano richiesta. Perché in questa fase di crisi energetica è difficile reperire anche la legna per la quale la domanda è cresciuta a dismisura, come pure il pellet con prezzi arrivate ormai alle stelle. Ma la Fanelli va oltre e chiede che venga impresso un'accelerazione alla sua proposta di legge presentata a marzo per ridurre l'addizionale regionale sull'accisa del consumo di gas naturale per i comuni di montagna dove notoriamente i consumi per il riscaldamento sono doppi se non tripli rispetto al resto della regione. Tra gli impegni contenuti nel documento approvato dal Consiglio c'è anche il confronto immediato e diretto con le parti sociali e gli enti locali sulle misure da attuare per istituire una sorta di piattaforma regionale per il contrasto dell'emergenza energetica, ha spiegato ancora la Fanelli. Ora, concluso, auspico che la regione possa attivarsi al più presto per fronteggiare l'emergenza dando così una prima risposta alle esigenze dei cittadini.